Rientra nel progetto nazionale avvocato di strada l'attività dell'associazione Nessuno Escuso Onlus di Taranto che nei giorni scorsi ha festeggiato i suoi primi dieci anni di attività. Dieci anni di interventi, dieci anni di passione per questa attività che per noi è importantissima perché ci fa entrare proprio a contatto con la realtà più sofferente del nostro territorio una realtà che purtroppo in questi anni diventa sempre più sofferta e una realtà anche che interessa sempre più persone. Questo non ci deve far piacere ma ci deve dare la spinta per fare sempre di più. A testimoniare la vicinanza del comune di Taranto all'associazione per il lavoro svolto l'ex assessore ai servizi sociali Scasciamacchia. Un lavoro che avviene ogni giorno con gli avvocati strada che si impegnano per cercare di aiutare e sostenere coloro che sono in serie difficoltà ossia i clochard della nostra città e del nostro territorio. Un lavoro fatto con amore, con passione ma soprattutto fatto con professionalità perché sì bisogna dare un sostegno e solidarietà ma c'è anche bisogno di competenza. Gli avvocati strada si impegnano professionalmente per sostenere e dare un supporto, un aiuto a coloro in questo momento stanno e vivono in momenti difficili. 19 avvocati, uno psicologo e tanta buona volontà. Questi gli elementi che caratterizzano l'associazione.